ma che è sto cosa no fai tutte cose tu invito tu no no siccome io ho disattivato origin in gioco per un motivo molto semplice perché purtroppo capita che mi invitano mentre gioco visto che si accetta con S io non nemmeno io mi stacco dalle partite e è un trauma quindi adesso io vado a partecipare anzi facciamo così ti invito facendo la seguente tu sei sul menu principale giusto? sì ecco sto arrivando io sto aprendo il gioco tre secondi e sono lì io faccio invita network e tu accetti quello invita network però non ti vedo nel network tu sei nel network mio? anti-noob aspetta che cambio e network attiva vi are all dead sì attiva ecco tu non hai problemi a fare tutti i tipi di partite no? no no puoi fare quello che vuoi a posto maurio accetta però hai accettato? sì a posto stiamo partendo vediamo ecco ci sei a posto maurio mamma mia mi ha fatto i sbadigli aiai stiamo in diretta anche io lo sbadiglio sì ma vai tranquillo tanto che problema c'è su nove minuti quattro minuti no quello è molto fittizio quella cosa lì molto molto e in pratica visto che è successo che stanno chiudendo sto server gli ho mandato la mail perchè mi è scaduto a marzo guarda immediatamente mi ha rimborsato i tre mesi che mancano da qui a marzo subito ah ma proprio per un tempo che ci manda la mail due minuti mi arriva il messaggio di paypal rimborsati 7 euro e 20 così micia o discord o qualche altra cosa non lo so boh ma vediamo con calma l'importante che sia come il ts3 così quanto te lo compri sei proprio sicuro sicuro che sei dentro lunedì che sei per cazzi tuoi mare capito dentro lunedì ovviamente c'è Balmash che scassa la minchia mare che scassa la minchia pesantemente eh vabbè nonostante io ieri ho giocato qualche partita l'ho fatta buona altre partite di merda ma pure io vado a momenti alcune partite muoio 20 volte anche di più voglio per capi scusa e io se ne stavo cercando ma pui cecchi vediamo un po' un mazzaio dai è camperato vieni in chiavi giotti quando camper non mi sopporto un'altra parte 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 almasch è balmasch madre un figli p***a ma sto exterminate dove cazzo arriva Grazie a tutti non sto facendo niente tu combatti ancora il tuo titan è quasi pronto ok dietro non possiamo farci rintraggiare ma tutte e due ci ha fatto in forza eh si eh pilota il tuo titan attende prepararsi a titan ball continuate ad avanzare non abbiamo un grosso passaggio muoviamoci mi ha salvato il culo qualcuno mi ha salvato il culo che allucinante un titan durato 30 secondi anche meno ma levati levati non riesco a fare niente 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 ma come che devono sempre camperare pure con i titan mamma mia ma sempre camperare pure che è titan no facchi ah io ho difficoltà pure a trovare uno uno scagnozzo eh vabbè colpo laser quello a volo col colpo laser mi prende oh non riesco a fare un punto ragazzi non ci riesco questo mette mette lo steam mentre lag mette lo steam mette lo steam mentre pigga il lag si quello c'è uno che è lag lo vedi a scatti lo vedi eh mentre mette lo steam giustamente il lag no guarda bene guarda bene mette lo steam mette lo steam mentre pigga il lag hai capito avanti a porto avanti a avanti a hai capito titan Ah e non muore, oh e non muore che va a fare un culo oh e va c'è vabbè va, ti do il calcio e non lo prende, arriva lui con un calcio, piglia e mi prende corpo a corpo qua è un mistero una botta di culo qua è vabbè al corpo eh, mi ha scassato la minchia c'è un problema il problema è chissi il problema è questo, basta ahia, che partita, ma poi che guittano i nostri, mamma mia che tristica e vabbè poi, oh tutte, mi riescono tutte, oh tutte, tutte mi riescono tutte ti abba al maschino, gli fai un cazzo, che culo è rimasto incastrato il coglione gli riesce tutto questo dove cazzo arriva riesce tutto exterminate, oh boh non lo so, ti vede sì 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 sì, vabbè tutto gli riesce ma ce l'hai con exterminate ma con tutti ce l'ho exterminate praticamente viene lì dove sei non sapete non muoio, no, non muoio no, è bene una partidaccia questa sì, sì, va bene Vabbè Vabbò io Quasi muo ora Quasi muo ora Oh ma manco il Non mi funziona manco il coso il radius Oh sparo Ma Balmash dove l'ha preso l'altro Titan Allunciante Ehi amò E sta andando? Vediamo dopo dai Oh quella partita la stiamo perdendo noi ah Ci stiamo arrivando veramente da schifo Ho un po' tutto eh Cioè io Io non ho potuto neanche respirare Neanche ammazzare gli schegnozzi per dirti Cioè vedi Ho più uccisione di piloti che di schegnozzi E io li cerco gli schegnozzi Perché Quando li uccidi Ti fai il Titan Capito? E non muore Vedi oh li ho tirato Li ho tirato addosso il coso Oh il Titan Ah Bright La Brake Steal Li hai finito leggermente Sulla faccia Altare Tipo l'ha preso tipo per un bel peso Non l'ha distrutto Combatti a corri alla nave da evacuazione E questa è andata Ponga io per un po' l'ho abbandonato sto gioco e mi sono rincoglionito incoglionito. Ho giocato al primo, il primo è più lento. E ti perdi di, ovviamente, di mano, ci perdi, no? Sì, sì, sì. Certo. Tutte queste uccisioni che sto subendo, da ieri ad oggi, prima non le subivo completamente. Sai che c'è, diciamo che c'è anche un po' di, vabbè, non ho giocato pure un mese, un mese e mezzo che non gioco a questo gioco. Poi c'è da dire anche che ormai con l'entusiasmo che c'era prima un po' mi è andato a scemare. Ebbè. Troppe, troppe cose assurde, vedo. Sì, ci sono, voglio dire, cose. Quello, di dove il calcio? Non lo prendo, lui, confusionario, perché giustamente stava sparando, mentre c'era l'altro pilota, mentre c'ero io che correvo, lui arriva sopra i muri, papi, 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 che mi dava un calcio e mi prende. Cioè, queste cose, no? Poi il corpo, il corpo a corpo è una cosa. Quello, quello, corpo a corpo. Poi l'altro, X Terminator, lì, cioè, ci vado da dietro, lui praticamente si alza, si gira, piglia e mi spara. Quindi non mi ha sentito perché ha magari lui le cuffie che sente il rumore dei passi. poop. poop. Ah, è... BORDELLO! Li le fire! Li le fire! La prendo ora! Vediamo sto cazzo di live fire come va! Vediamo che cazzo c'è! C'è mi ha fregato quello! E mi prende l'altro! Eheheh, poi? Abbiamo perso! Ne ha fatti fuori tre! No! Cinque! Tutti lui eh! Ma questo cazzo di cosa non l'ho capito come minchia fanno! Si, thank you! E' pure italiano questo! E' pure lo spiritoso! E' pure lo spiritoso! Dio, 0-2! Sono il peggio! Eh si merda! E' più prima eh! Ok! 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 Sei un vero cecchino. Il nemico ha la bandiera. Cosa siamo? Babu, cosa siamo? 2-1 per loro? Eh sì, eh. Sono in vantaggio di poco, possiamo farcela! Ah, ma sto crabber? Non l'ho capito. Poi ha il colpo lento che arriva un po' dopo. Eh, guarda, quello spara e non lo prende col crabber. Quello un colpo solo e lo prende. Babu? Andiamo avanti, dai. Eh, eh, eh. Deve è uscito questo? Che ha la Smart Pistol, compara, la Smart Pistol. Ma se manco l'ha preso? Possiamo ancora farcela, non disperare. Lancio granata! Eh, vabbè, dai, ma finiamola! Guarda, ma per favore, dai, ma come cazzo fai? Cioè, guarda, ma come cazzo fai? Eh, non lo prendi, ma... Pedata, vediamo. No, ovviamente, no, vediamo. No, vediamo, pedata. Eh, vedi, cioè, ma lo vedi? Ma come cazzo dove si può giocare così? A parte che ce l'hanno tutti addosso, ce l'hanno... A me ha ucciso col calcio, questo. Cioè, basta un colpettino e ti viene a prendere fino a là sotto. Dai, dai, dai. Io do un calcio così... Sì, è... Oh! Vamo! Minchia, come devi dare male a questo giro. Ora mi t'ha scassata la minchia, però, ah! Ah, vabbè, una cadena, con uno del sbiro. Uff! Minchia, stiamo morendo tutti. Eh, non muore! Eh, non muore! Eh, non muore! Non muore! Eh, non muore! Ah, vabbè, fai un culo, Doco! Bravo, compagno! Bravo, bravo! Eh, bravo, vai, chiedo del rete! Questo è morto pure! Babbo, dai! Sette, sei, cinque, quattro, tre, due... No, mi caro! Guarda, guarda quello! Oh, putta una bombetta e mi prende, Picciotti! Guarda, guarda, guarda! Guarda! Bravo, mica, ma sei forte! Oh! Minchia, ma sei forte! Mentre gli dai cinque... Ma vai a cagare, vai, sei italiano! Poi, per caricare lo Steam è due ore! Oh, che è, non lo so! È bello che ho messo il coso, eh! Cioè, lo Steam è... Oh, se non mi sbaglio, il... Ho la batteria messa, eh! Cioè, che si ricarica... Ah, che si ricarica subito! Immediatamente! Due ore per caricare, c'è stato! Cioè, che si ricarica subito, sì! Ah, che si ricarica subito! Mi sa che sta diretta che sto facendo, eh! È solo un bestemmia! Che è in Cinotene! È solo incazzamento, Cinotene! Vinghia ragazzi, incredibile, oh! Oh my god! Sì, le faccio quasi sempre le dirette così, è uno sfizio, non è nulla di che... Sì, ma è bello perché... Poi anche, oh se ne faccio le dirette comunque le partite... Ah, più che altro, eh, perché poi ti rivedi, capito, mentre giochi... Sì, se vuoi, o meglio ancora se ti capitano cose strane, no? Bello, è il bello. Giocatori cittoni, dobbè, ce l'hai. Ti dicevo, se non faccio la diretta comunque registro. E poi carico su YouTube quanto priva, capito? Stai lavorando per i buoni! Andiamo! Una difendita in libertà di marchiata. Il nemico ha catturato A. Il nemico ha catturato B. Corpo a corpo. Il nemico ha amplificato B, catturatelo. Ci è amplificato, bel lavoro. Ah! E' di culo! Sto facendo proprio... Sto facendo proprio CDR, guarda. Ma ne sto veramente... Mi te l'ho beccato in faccia con Raius. Ah, fa un culo, dog. Vengo a ammazzarti, va, fa un culo. Ah, fida di chiusare la smart pistol almeno. Si è amplificato, bel lavoro. Eh, si viene, venite, venite tutti, venite, venite. Vi sto massacrando. Senza via d'amba, ruzzo. Sono in vantaggio di poco, possiamo farcela! Ma vi che? E' crema! Io però c'è Kino. Attenzione, guidate il nemico all'attacco. Attenzione, gravi danni subiti a Raius. Abbiamo il pieno controllo. Ah Abbiamo il piano controllo amplificato bell' lavoro. Attimo stiamo vincendo state facendo un buon lavoro ah va fa un golo va t'ho sparato addosso t'ho dato un pugno in aria non ti prendo il nemico ha catturato a il nemico ha amplificato b catturatelo eeeh vabbè Titanfall in preparazione il nemico ha amplificato a catturatelo dietro Tizen è pronto prepararsi a Titanfall stupendo adoro quando esplodano i miei pelli c'è amplificato bel lavoro attenzione milota nemico all'attacco buca attenzione attenzione c'è un milota ostile sullo scafo dai schiacciatene il nostro pilota meno male ben catturato il nemico eliminato attenzione grazie mare ma intanto tu stai facendo una strage di piloti è aumentato i ritmi se non aumenti i ritmi e gioco come Titanfall 1 vabbè faccio la schiappa se aumento il ritmo invece le cose già cominciano a cambiare ti adegui ti adegui devi giocare TF2 mod on abbiamo il pieno controllo perfetto grande ottimo lavoro io ho una cagata 50-25 vabbè ti sei concentrato sui piloti ne hai fatto i 15 cazzarola il doppio di me praticamente è bene va 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 non farle escappare la fiera è giocata con Ronin, è scimonito è scimonito è scimonito di sci e ha gucchi basta che ha metto con Ronin non lo sto demolendo sto pad ah tu giochi col pad io credo che non saprei fare la minima mossa col pad io ho giocato sempre con l'Xbox quindi alla fine sei nato, sei nato, ti sei forgiato così per me questo è il mio primo PC giustamente non ci riesco a cambiare no ma ti credo se uno si forgia con quella roba lì è perché c'è di male non è che alla fine no ma in carità mica male no siccome alcuni dicono anche giochi col pad ok piloti facciamo le nostre parti poi ho le levette cosa no pad con i cosi i grilletti laterali scorpione che fai un camperone fai scorpione ora ti vengo a pigliare scorpione ti preoccupare ma sei fatto ammazzare te l'ho soldato semplice quello boh mi chiamare lo stavo ammazzando io da sopra hai visto sempre da camperato è camperato c'è la morte gli stava arrivando dall'alto al tipo camperato guarda l'altro camperato là dietro ma sei un camper sei ma sei un camper guarda che camperone quello ma cosa dei pazzi che camper di merda oh ma no raga che sfiga che camper di merda oh che camper di merda è molto è molto è molto Oh ma come mi ha fatto a prendermi dietro al coso dietro alle pareti ma come mi ha fatto a prendermi è tornato pilota, l'arrivo del minuto il minuto pilota è nemico di somma, attenzione pilota è nemico all'attacco male 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 fai talento pilota, fagli vedere che sai fare oh non li ammazzo, li uccido, non li uccido non li uccido non li uccido non li uccido, hai ammazzato uno per culo troppo di culo, non ha ammazzato uno quel pilota non ha sperato non riesco più a giocare ragazzi male, pazienza, fai piano, basta che non ti butti troppo come un pazzo a giocare ma quale, io sto giocando normalmente, solo che ma che culo questo, che culo guarda, guarda, quello l'ho messo sempre lì a camperare, quello scorpion guarda, guarda guarda, 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 guarda guarda, 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 guarda Non so, non so, non so, non so. TITAN BALL 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 Io prendo 10 minuti e 7 minuti di pausa TITAN BALL